Sì, oggi festeggiamo come sempre noi facciamo da anni la festa dell'Europa che è il 9 maggio in collegamento con la dichiarazione Schumann ma noi la dobbiamo festeggiare oggi che è 8 perché domani è sabato e la scuola è chiusa quindi lo anticipiamo ad oggi. È importante festeggiarla perché noi riteniamo che l'Europa è l'unica risposta vera e seria della storia a lunghi periodi di lotta e di guerre quindi l'Europa è l'unica speranza vera per questi cittadini nuovi che stanno formandosi. La festeggiamo regolarmente con i mille progetti europei che facciamo le attività di mobilità studentesca eccetera tra cui già dall'anno scorso abbiamo investito tempo, fatica ed energie in reti di scuole in particolare quella promossa da Intercultura che è la rete promossi sulla mobilità studentesca individuale ma anche di gruppo quindi un'attenzione all'internazionalizzazione. L'abbiamo aperta l'altro anno con circa 4-5 scuole che hanno visto in questo spazio, sempre al Democrito, nell'auditorium la presenza di quasi 500 alunni che la professoressa Rossocci saprà descrivere meglio di me perché lei l'ha vista più dall'esterno, da osservatore e ha avuto il piacere di scrivere un bellissimo commento quindi lascio a lei la parola. La Fondazione Intercultura e l'Associazione Intercultura Onlus di cui io sono volontaria ha voluto favorire la formazione di questo network di scuole non solo nel Lazio ma in altre regioni italiane in tutto sono sette le regioni italiane che hanno questo network proprio per valorizzare la mobilità studentesca i valori interculturali e l'interconnessione stretta tra competenze del sistema scolastico italiano e competenze e conoscenze che all'estero in qualsiasi paese il ragazzo vada può veramente accumulare e lo slogan sembrava anche a me dall'esterno quasi falso o finto, troppo bello ma è vero che questa esperienza cambia la vita noi abbiamo l'anno scorso presentato un piccolo libro con un grande contributo di questo liceo scientifico democrito sulle competenze che gli studenti elaborano all'estero e nelle formazioni di vari progetti europei e devo dire che l'esito di questa riflessione è proprio stato questo i ragazzi andando all'estero imparano nuovi modi di affrontare l'interculturalità e poi li adoperano non solo al loro rientro nelle classi ma soprattutto nelle scelte di vita a livello universitario e a livello del mondo del lavoro quindi il liceo democrito è stato per noi un incontro molto bello già da due anni fa nel maggio del 2013 proprio perché ci ha testimoniato come questa rete promossi che io adesso curo come referente regionale Lazio possa veramente avere un grande futuro per la formazione globale delle famiglie, degli studenti, dei docenti degli stessi dirigenti con una formazione online che la Fondazione Intercultura metta a disposizione sempre gratuitamente